Benvenuti agli amici di Un Tè con Rosanna. Oggi siamo ospiti dell'Istituto Superiore Notarangelo Rosati di Foggia, in compagnia del dirigente scolastico, professoressa Maria Aida Episcopo. Buongiorno, Presidente. Buongiorno a lei. E della referente alla cultura dell'Istituto, professoressa Marie Gilda Tibollo. Buongiorno. Bene, l'occasione che ci trova qui ospiti è dovuta alla pubblicazione di un testo che l'Istituto ha reso omaggio alla città di Foggia, sui passi di Giuseppe Rosati, un itinerario storico, artistico, turistico, multilingue. Preside, quali sono state le ragioni della scelta? Io penso che ogni risultato culturale, ogni prodotto scolastico, discenda poi dalla biografia scolastica. Questo istituto ha da sempre una vocazione in ambito linguistico, tant'è che i nostri studenti, da tanti lustri potrei dire, diffondono anche il piacere, il lusus per le lingue straniere in vari contesti operativi e lavorativi, anche oltralpe, anche fuori dal nostro contesto di riferimento. Per cui l'idea di una guida plurilingue in effetti trovava grandissimo riscontro, attecchiva, diciamo, aderiva alla nostra idea di scuola, di fare scuola, che non si limita alla lingua madre, peraltro cardine fondamento anche della nostra mission scolastica, ma va a incunearsi in altri territori delle lingue parlate, in questo caso delle lingue europee, perché la guida plurilingue è in italiano la nostra lingua madre, in inglese, in francese, in tedesco. È ovvio che un'opera dedicata a Rosati trova la sua ragione d'essere già nella nostra denominazione d'istituto. Ci denominiamo, infatti, anche nei codici meccanografici istituzionali dell'anagrafe della pubblica istruzione italiana, istituto di istruzione secondaria superiore, Notarangelo Rosati. Rosati, quindi, ci appartiene, non solo perché onoriamo nella nostra denominazione scolastica la sua memoria, ma, come saprà sapientemente illustrare la referente del progetto, ricalca le orme di tutti noi cittadini foggiani e di Capitanata. Quindi io essenzializzerei a queste due ragioni il motivo di questo lavoro. E infatti curatrice del progetto è la professoressa Marigilda Tibollo, che è il referente alla cultura dell'istituto. Marigilda, come ti è nata questa idea? In un assolato e noioso agosto del 2013, per caso avevo letto che nell'anno successivo, nel 2014, sarebbe ricorso il 200esimo anniversario della morte di Giuseppe Rosati. E poi, per curiosità, ho navigato in rete, ho parlato con dei concittadini, tutti conoscono Via Rosati, tutti conoscono il mercato di Via Rosati, poi però nessuno ne sa nulla, o perlomeno la massa sa che è esistito un Giuseppe Rosati, ma chi fosse, perché fosse celebrato, pochi lo sapevano. E allora, ho pensato di creare un ideale itinerario, perché non è un itinerario già storicamente accertato, che portasse sui luoghi della presenza di Rosati, e quindi portasse alla casa natale, portasse alla sua sepoltura in cattedrale, e portasse ai luoghi dove viene celebrato dalla città di Foggia, vale a dire nella villa comunale, in fondo agli 800 metri di parco urbano Wojtyla, c'è il famoso boschetto per noi foggiani, è così ricordato, e c'è un tempietto. Sotto quel bellissimo tempietto di stile classico, c'è il busto di Giuseppe Rosati, perché nel 1875 la città, ancora memore della sua presenza e della sua importanza, volle appunto celebrarlo. E quindi, chi era Rosati? La targa stradale dice economista, economista è molto molto riduttivo, perché è stato poliedrico, eclettico, dedito a tutti i saperi, come le varie epigrafi ricordano, sia nella cattedrale che nella casa natale. E quindi partendo da lì, ho pensato di portare i ragazzi in giro per Foggia, poiché per, diciamo, missione professionale insegno storia, e racconto storie, mi è piaciuto inserire la storia di Giuseppe Rosati nella storia con la S maiuscola, perché la microstoria locale è importante quanto la storia generale mondiale. Certo. E gli alunni come hanno reagito a questa proposta e quanto sapevano prima del lavoro svolto di Giuseppe Rosati? Allora, gli alunni, come un po' tutti quanti, non ne sapevano niente. Come hanno risposto al progetto? Allora, innanzitutto c'è da dire che il progetto è stato presentato al collegio docenti. Senza il collegio docenti che l'avesse approvato, questo progetto non sarebbe mai nato. Quindi sicuramente il ringraziamento va ai colleghi che hanno creduto in questo progetto, al dirigente che ci ha sempre spinto, aiutato, confortato, sollecitato ad operare e ad agire. Quindi la proposta ai ragazzi è stata fatta poi appunto all'inizio dell'anno scolastico successivo, e i ragazzi l'hanno presa bene, soprattutto alla prospettiva di andare girando per Foggia. Perché quello è il problema, i ragazzi girano per Foggia, camminano per Foggia, si aggirano per Foggia, ma non sanno dove sono. Quindi, con orgoglio possiamo dire che abbiamo portato più di 300 alunni a tutt'oggi in giro per Foggia e generalmente tornano a casa entusiasti. Prof, sembra che siamo in gita. Prof, abbiamo fatto la gita con voi. Una visita sul territorio che parte da San Giovanni Battista, appunto si snoda per le vie di Foggia, per arrivare in via Rosati, e i ragazzi hanno visto la città con occhi diversi. Hanno scoperto delle cose che non sapevano. E quindi la piazzetta dove si trovano abitualmente al fine settimana, adesso ha un nome per loro, si chiama Piazza del Lago, perché lì forse è stato ritrovato il sacro tavolo. Chi non era mai entrato in cattedrale, chi non aveva mai messo piede in villa comunale, nessuno sapeva appunto che dei luoghi erano segnati, caratterizzati da questa presenza di Rosati. E poi la nostra specificità, come prima delineava la nostra dirigente, è la traduzione nelle lingue straniere. Quindi i ragazzi che hanno partecipato al progetto erano ragazzi che appunto frequentavano l'indirizzo linguistico della scuola, e quindi si sono dati da fare una classe per il francese, un'altra per il tedesco, un'altra per l'inglese, con le traduzioni, che ovviamente sono state riviste e curate poi dalle nostre docenti, alle quali va il nostro ringraziamento. E infatti volevo chiedere al dirigente quali fossero stati, chi fossero state le docenti che hanno partecipato alla traduzione. Allora, intanto è un gruppo corposo. Io citerò i protagonisti principali, però ecco, e finali, però senz'altro la dimensione gruppale proprio ha pervaso tutti gli step lavorativi, dalle visite sul territorio, alla collaborazione anche brevi mano dei colleghi del Dipartimento di Italiano, oltre che di lingue straniere. È doveroso ringraziare la professoressa Rosaria Grimaldi per gli step traduttivi lingua inglese, la professoressa Marchesino e Antoinette Ruggero per gli step di francese, le professoresse D'Amico e Allerpac per le parti dedicate alla lingua tedesca. Però ecco, ci teniamo a dirlo, l'ho detto anche in prefazione, dà una bellissima idea, e poi è discesa una coralità di azione che ci onora particolarmente. Per cui io dico che questo libro è firmato notarangelo Rosati, ma lo può firmare ciascun nostro alunno e anche ciascun nostro lettore, perché questo lavoro, questo sforzo, comunque ha anche una codificazione editoriale, con tanto di registrazione di ISBN e quindi ha una dignità di stampa a BOMO, quindi implicita. Ecco, come intende l'Istituto notarangelo Rosati offrire il territorio di Foggia alla sua opera? Niente, intanto sicuramente avrà una collocazione nei luoghi culturali della nostra città. Alcuni in questo momento vivono per sopravvivere, lavorano per sopravvivere. Parlo per esempio la copia all'ente locale comunale o la provincia o l'archivio di Stato, la biblioteca e non è il caso anche in questa occasione di esprimere la nostra pugnace difesa del mantenimento in vita di questo luogo culturale che è stato frequentato da noi, dalle generazioni che ci hanno preceduto e anche da quelle che seguiranno ancora. E niente, quindi... Poi io sono convinta che le istituzioni di cultura e le istituzioni educative doverosamente dovranno fare dei follow-up sui loro lavori perché sennò le buone pratiche non si concatenano l'una all'altra. Invece noi siamo in una filiera evolutiva di buone attività. Questa è firmata da questa scuola però il territorio ha tante buone firme quindi se concateniamo i nostri sforzi a quelli degli altri probabilmente la nostra biblioteca documentale diventa più ricca. Ovviamente è doveroso ringraziare anche gli storici locali che hanno generosamente devo dire contribuito a delineare i testi che proponiamo. Ma di questo ringraziamento vorrei che lo facesse la professoressa Tibollo perché allora... Io volevo chiedere una cosa prima di passare agli storici locali io so che c'è un dato personale che lega la professoressa Tibollo all'opera ce ne vuoi parlare, Mari Gilda? Eh sì, io sono già rossita e sto già avendo la pelle duoca perché? Perché mentre cercavo in rete dei materiali e quindi digitavo su Google nel motore di ricerca Rosati a un certo punto vedo fra gli esiti mi viene dato Rosati Tibollo e io dico vabbè come mai questa copiata Giuseppe Rosati Tibollo quindi vado a scaricare il documento vado ad aprirlo ed era un testo di mio padre che era stato scritto per il 150esimo anniversario della morte di Rosati. Ricordiamo chi è stato tuo padre? Un giornalista locale a Tiglio Tibollo la città di Foggia gli ha dedicato una via per ricordare insomma proprio questi scritti di amore per la storia locale che quindi hanno ricordato la città di Foggia le tradizioni di Foggia Foggia nei primi 60 anni della sua storia e alcune istituzioni come per esempio il liceo musicale all'epoca prima di diventare conservatorio Umberto Giordano oppure i francescani nella provincia di Foggia oppure Federico II il famoso a tavola con Federico II un piccolo libretto che comunque viene ancora diciamo saccheggiato riportato quando si voleva parlare di cosa mangiasse Federico II nella sua amata Foggia nel suo amato palazzo foggiano e quindi è stato veramente un batticuore un'emozione trovare il nome di Rosati associato a quello di mio padre Sicuramente e chi sono stati poi gli storici che ti hanno coadiuvato in questa ricerca? I testi che corredano le foto fatte dai nostri alunni sono stati tratti dalla rete e soprattutto da alcuni blog di autori foggiani di storici foggiani come Alberto Mangano Raffaele De Senen che portano sempre nel cuore la città di Foggia e la portano sempre in alto quindi sono stati generosi nel darci l'autorizzazione all'uso dei loro testi e noi non possiamo che continuare a ringraziarli per quanto riguardava il progetto che esidi si può avere per la città di Foggia ma se qualche scuola ce lo richiederà di portarli sui passi di Rosati noi siamo disponibilissimi a far da guide certo dobbiamo concordare un po' alle giornate perché già da qualche altra associazione mi è arrivato l'invito a fare questo itinerario con adulti o con scuole con bambini quindi sicuramente se l'obiettivo è ritrovare riconoscere e scoprire Foggia noi ci siamo volevo completare il discorso sul progetto Rosati che ha sicuramente riguardato questo prodotto editoriale ma tutta la scuola è stata coinvolta nel progetto Rosati nel senso che anche altri docenti si sono dedicati ad approfondire alcuni aspetti come gli insegnanti di religione o quelli di scienze di economia o come alcuni colleghi che materialmente hanno ricostruito il famoso tempietto celebrativo molto molto ben fatto e quindi da questo punto di vista appunto il progetto Rosati ha veramente coinvolto tutta la scuola bene allora una scelta di cuore come ci ha appena detto la professoressa Di Pollo che l'istituto Notarangelo Rosati con il cuore offre a tutta la cittadinanza possiamo concludere con un invito alle altre scuole o gli enti o chiunque voglia a richiedere appunto l'itinerario turistico alla nostra scuola ma anche per poter appunto camminare sui passi di Giuseppe Rosati insieme all'istituto Notarangelo Rosati Preside noi la ringraziamo e ci auspichiamo appunto che questa questa opera possa davvero essere conosciuta da tutti i cittadini di Foggia che come abbiamo detto non erano al corrente delle grandi qualità e della personalità di Giuseppe Rosati noi ringraziamo l'istituto Notarangelo Rosati per l'opportunità che ci ha dato di far conoscere l'opera edita e pubblicata dalla scuola e li salutiamo in attesa di un prossimo eventuale incontro ringraziamo e ringrazio a nome della scuola che dirigo e che rappresento e benvengano le nuove occasioni culturali di approfondimento e di riflessione soprattutto se in rete significativa con le altre scuole e con il territorio grazie a voi Mari Gilda noi ti salutiamo e ti ringraziamo io ringrazio te anche per questa opportunità che hai dato alla nostra scuola e hai dato alla nostra umile opera perché appunto crediamo fortemente nell'importanza della storia locale delle radici e delle tradizioni storiche e appunto come dico spesso la radice deve essere molto robusta e infilata nel territorio più sarà robusta e più avrà rami rigogliosi che potranno espandersi dappertutto e quindi questo è l'importante è avere questa grande conoscenza questa conoscenza della storia di Foggia e di chi siamo e da dove veniamo e noi siamo perfettamente d'accordo con questi amici di Mitico Channel appuntamento al prossimo tè di Foggia Grazie a tutti.